Bentornati! Allora sono rientrato poche ore fa da Parma, credo che il faccino bello riposato lo testimoni e vi racconto questo desiderio d'amore che ho visto ieri sera. Allora, era la prima volta che andavo a Parma, a Reggio, non ce l'ho mai stato ed era anche la prima volta in vita mia che andavo in Lugione e devo dire che credo che continuo ad andarci per il resto della mia vita, in effetti è il posto del teatro dove si sente meglio, l'acustica devo dire a Parma è molto molto buona e in particolare dove ero io, Lugione centrale, ma soprattutto poi si vedono tutte le dinamiche anche in qualcosa da retropalco, tutto il bene d'orchestra, per cui insomma è curioso perché tanti anni che basti col teatro non ero mai stato in Lugione e quindi insomma, ora capisco perché in tanti ci tengono ad andare e credo che prossimamente, cioè le prossime volte, a meno che non ci siano motivi particolari, andrò sempre solo in Lugione. Detto questo vi racconto questo desiderio d'amore che ho visto ieri sera. Allora partiamo dalla prima cosa, la prima cosa, la regia, la regia di Daniele Menghini. Io comincio a non poterne più ragazzi di queste regie e non perché fosse brutta e la cosa che mi fa più arrabbiare è che questo regista è un buon regista, nel senso sia il coro sia i cantanti erano ben posizionati e mossi abbastanza bene, quindi vuol dire uno che le cose le sa far funzionare se vuole. Però continuiamo con queste ambientazioni che non hanno, e ne ho visti anche il peggiore di questa qua, queste ambientazioni che non hanno, non stanno in piedi, questa cosa era ambientata in una specie di fabbrica di marionette, di burattini, bellissimi, costumi bellissimi, non è l'opera sbagliata. Ecco, c'è questo piccolo dettaglio. Per cui, come al solito, vediamo questa scena iniziale dove in questa specie di, appunto, di laboratorio dove si costruiscono marionette e dove ci sono attrezzi eccetera eccetera, il coro canta nel conforto il mentitore quando il sol... Io di questa roba qui non ne posso più. E vi dirò di più, mi sono anche veramente stufato, mi sono veramente stufato di due cose. Uno, il voler per forza ammantare qualunque cosa si faccia sul palco di simbolismo. Cioè, guardate che io qualcos'è di simbolismo ne so, ma non ne posso più di vedere applicato dove non ha nessun senso applicarlo. A me non me ne frega niente se, non che sia successo ieri sera, faccio un esempio, non me ne frega niente se in scena passa un aeroplano perché deve simboleggiare una qualunque cosa. No, me ne frega niente se l'aeroplano non c'entra niente con quella storia lì, io l'aeroplano in scena non lo voglio vedere, non lo voglio vedere. Ripeto, e ne ho visti di ricerci più brutti quella di ieri, ma non ne posso proprio più, non ne posso più di vedere a un certo punto questa cavola, questa specie di regina, un personaggio che aveva la regina della notte sembrava, con in mano un pesce, una specie di aringa, ed è andata in giro per tutta metà del secondo atto, sull'overboard, non so su cosa camminasse, non lo so, a rompere le palle a tutti i cantanti. Io non le posso più, è una cosa inguardabile, ingestibile e inaccettabile secondo me. Il regista si è preso anche un paio di bu da Lugione, non da me, sapete, io non buo, al limite io non applaudo, ma non contesto mai in quella maniera, ma è andata anche molto meglio di come mi sarei aspettato. E questo ci porta al fatto che i teatri, come quelli di Parma, di Modena, di Reggio, che una volta erano il terrore di cantanti e registi, perché veramente il pubblico era feroce, ma oggi ci siamo abituati a non contestare più niente, ad applaudire tutto, e loro ci facevano andare bene tutti. Però, ripeto, ecco, la seconda cosa che non mi piace più sono le cosiddette micro-storie, cioè il fatto che oggi i registi debbano per forza, mentre i cantanti cantano un duetto d'amore, o di passione, o litigano, o qualunque altra cosa, devono inserire i personaggi che fanno altre cose che non c'entrano una beata fava con quello che sta succedendo, con quello che sta succedendo ai cantanti, che teoricamente sarebbero i protagonisti dell'opera, così, micro-storie che rompono le scatole e basta, rompono le scatole e basta. Io giuro, non ne posso più, Per cui, mentre i cantanti cantano, vedi quei due che litigano, quella che vomita nel secchio, c'è un tipo che vomitava nel secchio, quell'altro che fuma, cioè, quell'altro che parla con... C'è roba assoluto distraente. E, oh, forse sto rinvecchiando, sto diventando un vecchio brontolone, cosa vi devo dire? Ma non ne posso più vedere, mi disturbarò fisicamente, va bene? Così come poi la decisione di promuovere due mimi a personaggi principali che sono usciti i miei cantanti, che, boh, francamente, non l'ho capita, l'ho capita benissimo, proprio non l'ho apprezzata. Per cui, vi prego, direttori artistici, basta, 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 con queste regie. Ma non posso, ma posso vedere una cosa pulita? Non dico necessariamente che dobbiamo prendere come Vangelo quello che c'è scritto sulla partitura. Rivediamo, vediamo, però come dicevo, fatemi una regia fresca, ma non una regia che vada conto quello che sta succedendo sulla scena. Cioè, se nel momento di un duetto d'amore Memorino si mette a combattere tipo Spadaccino con dei moci Vileda contro un figurante, forse il regista troverà che questa cosa sia una trovata geniale e davvero esilarante. a me girano... Non ve lo dico se mi gira. Mi girano, però, va bene? Perché oggi sono, cioè, stavo per partire un paio, sapete, io cerco sempre di mantenere un certo aplomb, una certa correttezza, anche verbale, ragazzi, però non ne posso più rivedere certe cose. Veramente, non ne posso più. Vediamo, andiamo ai cantanti. Adina è stata Nina Minasian, senza infame e senza lode. Non possiamo dire che abbia cantato male, tra l'altro il suo lavoro l'ha fatto, però non una voce particolarmente bella, non una voce particolarmente espressiva, dinamiche pochissime, tutto nello stesso rendo dinamico. Ripeto, non posso dire che abbia cantato male, ma mi chiedo perché non si possa trovare a chilometro zero una cantante che canti in quella stessa maniera o magari anche fino a miglia, cioè ce ne sono, ne conosco io una mezza dozzina, è proprio così che mi vengono in mente che avrò potuto cantare quel ruolo meglio. Per cui se la domanda ma perché allora è stata chiamata questa qua anche dall'estero, non so di dove sia, mia idea, le risposte a questa domanda sono solo due, vuol dire che o c'è qualche discorso di agenzia, per cui l'agenzia la imposta, prendi quell'altra ma ti do anche questo qua, oppure c'è qualche scambio con l'estero che è il premolo del cielo. Se sei in diretto artistico questi conti li devi fare, ecco. Ma almeno, se mi date queste due motivazioni, soprattutto la seconda, ancora ancora la posso accettare. Se mi dite che è stata chiamata esclusivamente per le sue qualità vocali, allora avrei qualcosa da ridire. Idem per Giannetta, Giulia, Cacenco, è vero che la parte di Giannetta è un po' ingrata e non è certa la parte in cui una cantante si possa esprimere al meglio fatto il suo lavoro niente che resterà negli annali. Roberto De Candi ha interpretato Dulcamara e l'ha interpretato bene con innanzitutto grande sapienza attoriale come questo ruolo impone assolutamente. E poi, insomma, vocalmente è stato bello, insomma, la parte Dulcamara non è una parte vocalmente particolarmente impegnativa, insomma. però devo dire che è stato molto apprezzato ma che anche dal pubblico molto applaudito e quindi bene, direi che il protagonista dell'opera sia il protagonista dell'opera di Dulcamara e il protagonista dell'opera sicuramente fatto degnamente del suo lavoro. Nemorino Francesco Meli e qui andiamo nel complicato. La prima volta che ho visto Meli faceva Nemorino a Torino, a Reggio di Torino nel 2007 e toltretutto avevo seguito tutte le prove e pensate a lui lì in quella produzione era il secondo cast di Flores e secondo me aveva cantato meglio di Flores. Era proprio strepitoso. Ieri l'ho trovato incredibilmente fuori ruolo. Cioè stiamo parlando di un grandissimo professionista che ha tanto mestiere e che sopperisce molto bene a certe come dire a certe non carenze tecniche ma la voce è cambiata non può più fare Nemorino la voce scura la voce piena se vogliamo non è più la voce del Nemorino e quindi gli ho seguito fare nel 2007 un Nemorino strepitoso forse il più bel Nemorino che io abbia ascoltato almeno dal vivo e ieri sera gli ho visto fare una performance davvero davvero per me deludente non ha sbagliato niente poi insomma lui ha tante idee musicali ha tanta musicalità cioè se il voto fosse sulle idee musicali gli darei dieci se il voto invece è basato su come lui ha realizzato queste idee musicali a me non è piaciuto molto per l'ultimo pubblico gli ha fatto anche bissare la fortiva lacrima che lui ha fatto con molto mestiere e con anche gusto però è un po' come se cerchiamo di affettare una mela con una scimitarra ecco questo è più è il paragone che mi viene più facilmente in testa secondo me non dovrebbe accettare queste cose molto semplice ormai la sua voce è una voce più matura che deve fare altri ruoli e non capisco perché si ostini a fare Nemorino e voi mi potreste dire sì ma Pavarotti ha fatto Nemorino fino a 70 anni sì ma ma sapeva come farlo a me vocalmente ieri Meli non è piaciuto Belcore Ludovico Filippo Radizza qui qui è una cosa interessante la cosa interessante farò un video apposta su Ludovico e lo specificherò anche nel video che intendo fare su di lui perché secondo me questo ragazzo va molto lontano ha un bellissimo timbro vocale bellissimo ha una bella presenza scenica ed è e si muove molto bene sul palcoscenico quindi anche da potenza attoriale è uno veramente che ci sa fare e secondo me ieri ha cantato bene io ripeto proprio perché lo conosco vi assicuro può cantare anche meglio di come ha cantato ieri però è un ragazzo veramente veramente da tenere d'occhio che che può fare una carriera strepitosa e può essere veramente una grande voce verdiana nell'arco di pochissimi anni e andare così a coprire tutti quei ruoli che tante soddisfazioni hanno dato ad altri suoi colleghi passiamo alla direzione Sesto Poitrini e qui sono un po' in difficoltà sono un po' in difficoltà perché ho visto ripeto proprio dall'alluggione quindi senza staccargli gli occhi da addosso un momento un direttore preparato un direttore con delle belle idee musicali che ha accompagnato abbastanza bene in certi casi in maniera un po' stretta senza particolari respiri però insomma si vede che l'opera la conosce è molto preparato e ripeto è anche realizzato delle cose con l'orchestra buone delle buone intenzioni musicali o quantomeno delle intenzioni cioè quantomeno guarda con le cose non scritte però si vedeva che c'era quella intenzione e 9 su 10 erano intenzioni assolutamente condivisibili ed efficaci il problema è stato negli assiemi in particolare nelle strette c'è praticamente l'impressione perché lo stacco del tempo non è una cosa discutibile è una legge matematica e in tante occasioni lui ha staccato un tempo della stretta dell'insieme troppo veloce cioè non troppo veloce lui lo voleva più veloce e l'orchestra l'ha bellamente ignorato e è andata avanti per il suo tempo questa cosa e questa cosa cosa ha comportato che qualcuno sul palco lo seguiva qualcuno lo seguiva l'orchestra faceva quello che voleva e questa cosa ha portato una serie di scollamenti niente di grave niente di clamorosi niente di urlare niente di cui urlare però scollamenti verticali e non saprei come altro finirli e questa cosa non è successo una volta che può succedere due volte che può succedere che hai beccato la serata storta questa cosa è successa almeno sei volte nel corso della recita di ieri quindi vuol dire che c'è proprio un problema tra il direttore e l'orchestra perché a parte che certi suoi tempi soprattutto ripeto su queste strette erano veramente eccessivi velocissimi fa tutto in uno no tutto li porta tutti in uno e va bene però questo portare tutti in uno soprattutto con un gesto spesso grande perché se si vuole fare un tempo molto stretto lo si porta in uno con un gesto piccolo perché più il gesto è grande più ci saranno problemi di verticalità e il gesto deve essere piccolo e contenuto invece spesso portarli in uno veloce con un gesto ampio soprattutto molto molto laterale sul battere può portare e regolarmente ha portato a dei problemi di verticalità e di assieme e mi spiace ripeto perché se fosse stato un episodio due episodi possono succedere però è successo tante volte questa cosa e secondo me è sintomo di una scarso feeling tra il direttore e l'orchestra e di conseguenza anche poi tra il direttore e il palco l'orchestra ha suonato bene bene senza far guidare al miracolo buono il coro devo dire soprattutto gli uomini e soprattutto i tenori molto precisi molto ben definiti quindi buon lavoro del coro però l'impressione che ci sia in questa produzione che potrebbe essere strettamente musicale una sorta di ghiatto fra quello che c'era sul palco e quello che viene richiesto dalla buca e io l'ho avuta più di una volta per cui che dire sono stato contento di essere andato comunque soprattutto per aver visto il mio amico Lodovico di cui appunto io parlerò in un video specifico che sto pensando su di lui un appello ai direttori artistici ridateci dei registi che facciano un qualcosa di vedibile perché non basta che una cosa sia bella perché non ho visto le scene neanche erano belle le luci erano ben fatte costumi molto belli ma erano i costumi le scene e le luci di un'altra opera per cui basta con queste ambientazioni che non c'entrano in una cippa di niente con quello che c'è scritto sul libretto ne ho viste troppe ne ho viste tante non ce la faccio più se volete iscrivetevi al canale lasciate un like commentate se avete visto anche voi la produzione di Parma che cosa ne pensate se avete piacere potete abbonarvi da qualche tempo è possibile abbonarsi e avere dei contenuti extra su questo canale altrimenti almeno iscrivetevi come lo sapete cliccando qua su anzi qua su ci vediamo alla prossima